vai 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 anche lui si sta bruciando lo lasci e sta sbagliando, ma lui è un grande eh lo so è un grande senso, grazie ah, vuoi dire? eh ma ho matata che è il piazza, non manca facciamo quelle foto a mettere, vai vai vai, questo è il video vai vai prendete ragazzi, prendete e manciatene tutti ma meglio dimmi come lo vuoi, si fa la cuocere, se tu la vuoi ma è ancora cruda la puoi mettere la sopra, non la fai ricotta noi tiriamo una piatta, la facciamo in modo che mi guardi anche di là sposta, sposta, vieni ma meglio dimmi come lo vuoi è un vigile ah 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 tu siamo i due hai da ah 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 sono paesi che l'ha mangata ah ho tenuto Grazie.